Si intensificano i controlli dei carabinieri in vista del ferragosto. Dalla scorsa domenica, 11 agosto infatti, i militari dell'arma hanno alzato i livelli delle verifiche sui guidatori proprio in vista della settimana più calda in termini di partenze ed arrivi in città. L'attenzione dei carabinieri, come sottolineato dal Maggiore Antonio Corvino, sarà rivolta particolarmente ai controlli finalizzati alla prevenzione e dal contrasto all'uso di alcol e sostanze stupefacenti alla guida. In due notti in particolare, non vi dico quando per ovvie ragioni, avremo questo laboratorio mobile che ci consentiva di sottoporre i conducenti dei veicoli controllati a dei test speditivi per accertare l'eventuale presenza di stupefacenti. Noi abbiamo fatto un'attività preventiva durante l'anno, abbiamo visto diverse scuole, abbiamo incontrato tantissimi studenti, abbiamo lavorato molto sul far conoscere quali sono le conseguenze penali e amministrative sulla salute dell'abuso di alcol. In questa settimana ovviamente faremo un'importante attività di contrasto al fenomeno. Controlli, quelli operati dai carabinieri, che avranno inoltre come obiettivo anche quello di contrastare i reati predatori. Sì, questo è un altro tema importante. Abbiamo aumentato i controlli anche nelle zone periferiche, però quello che dico sempre è importante lavorare in sinergia, quindi invitiamo, invito nuovamente i cittadini che notano qualcosa di sospetto, che hanno un dubbio a contattare il 112. Fatelo tempestivamente. Attenzione anche al fenomeno, ormai tristemente diffuso, della truffa agli anziani, con questi ultimi chiamati a rivolgersi immediatamente al 112 e al verificarsi di tali eventi. L'attività di contrasto c'è, si vede, i numeri sono anche in calo, non è sufficiente. Bisogna lavorare sull'attività preventiva. Quindi anche su questo l'invito che facciamo è che stiamo facendo anche in questi giorni, con incontri continui presso anche le varie chiese a Salerno, in cui incontriamo anziani, incontriamo anche figli di persone anziane per spiegare loro come anche mettere in guardia i genitori. Abbiamo divulgato diversi obuscoli informativi. L'attività preventiva è importante, la consapevolezza lo è ancora di più. L'invito che facciamo è quello di contattare tempestivamente il 112.